Ho pochissimi secondi di video semplicemente per magnificarvi queste immagini, è uno spettacolo. Io penso sempre a coloro i quali stanno in montagna, hanno delle bellezze come io ho vissuto, a coloro i quali stanno nelle pianure, ma al mare queste immagini qua sono insuperabili, sono indifettibili perlomeno, non nella stessa forma. Stop!